tanta guagna per tutti ragazzi sono mister blu questo sarà un video molto veloce ma devo informarvi che questo fine settimana saremo a romics noi ci saremo venerdì e sabato credo proprio che ci vedremo lì chi ci sarà di guagna ci sarò io ci sarà mister black e ovviamente ci supporterà anche lo staff frank ferrix titanium ricky credo anche alec saremo ospiti presso lo standing tom server che ovviamente ringraziamo e cosa molto importante ragazzi chi non sarà presente a romics potrete comunque seguirci ovviamente tramite social facebook twitter instagram eccetera ma per la prima volta useremo anche periscope è un'applicazione tramite il quale faremo delle dirette live quindi potrete seguirci in diretta da casa se non lo conoscete vi lascio un link in descrizione che vi spiega esattamente come funziona e come fare per seguirci quindi ragazzi ricapitolando venerdì e sabato saremo a romics installate periscope e che dire ci vediamo ciao ciao